Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un emendamento blocca-trivelle al Decreto Legge Semplificazioni che prevede per un termine massimo di tre anni la sospensione e i precedimenti di nuovi permessi di prospezione per la ricerca di idrocarburi. Grazie a questa moratoria sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti, compresi i tre permessi rilasciati nel Marionio. L'emendamento annunciato da Davide Crippa, sottosegretario al Mise, prevede l'introduzione del piano per la transazione energetica sostenibile delle aree idonee, che andrà definito e pienamente condiviso con regioni, province ed enti locali e individuerà le aree più consone per compiere tale attività sul territorio nazionale. Ma a sollevare la polemica politica ci ha pensato Angelo Bonelli dei Verdi, che ha accusato il Mise di aver dato via libera le trivelle nel Marionio. La ricerca autorizzava l'uso di bombe d'aria sonore dannose per i fondali e la fauna ittica, un regalo di Luigi Di Maio alla Puglia e alla Basilicata dopo l'ILVA e le autorizzazioni alla Shell rilasciate dal Ministero all'Ambiente, ha detto. Il titolare Sergio Costa ha però fatto sapere che da quando è ministro non ha mai firmato autorizzazione a trivellare il nostro paese e questo lo conferma anche Di Maio, che specifica come le ricerche di idrocarburi erano state autorizzate dal governo precedente dal ministro Galletti. Spero che ora mantengano fede a quanto promesso e che non si impegnino nella ricerca di altri sotterfuggi ai danni della nostra comunità, ha sottolineato l'assessore regionale pugliese all'ambiente Gianni Stea. Ma sulla vicenda ha tuonato anche il governatore Emiliano, che ha presentato lo scontrino delle cattive azioni al governo. Hanno finalmente capito che stanno governando e che hanno tutti i poteri per fare qualunque cosa e che tutti i blocchi che qualcuno gli inventa, mi auguro, o che si inventano da soli, possono essere superati. Si potrebbe fare di più anche per Taranto e per il gasdotto TAP di Melendugno. Speriamo soprattutto che abbiano qualche altra botta di coraggio, perché servirebbe un altro decreto per eliminare i 12 decreti incostituzionali che consentono l'immunità penale a chi gestisce l'ex Silva di Taranto. Nel decreto Taranto potrebbe essere inserita anche l'inizio della procedura di decarbonizzazione della fabbrica. Oggi ci sono tutte le condizioni favorevoli. Persino l'acquirente, Arsenal Mittal, ha capito che questa decarbonizzazione deve partire. Deve essere il governo con un decreto ad accelerare questa strada e finalmente a dare una risposta anche sul piano ambientale e di salute ai miei concittadini tarantini. Soprattutto servirebbe un altro decreto per spostare l'approdo del gasdotto TAP di Melendugno in una zona meno pericolosa, meno rilevante dal punto di vista turistico. E il presidente della regione dà appuntamento a tutti per il 14 gennaio prossimo.